Vi rubo giusto due secondi per informare soprattutto ai nuovi arrivati di iscriversi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdere nessun video di The Walking Dead Che dire, iniziamo subito Bella a tutti ragazzi, io parla Foxound e bentornati nel canale The Walking Dead News, spoiler e altro Sono tornato ragazzi con la predizione dell'episodio 14 che andrà in onda lunedì prossimo Questo episodio si chiamerà The Other Side e sarà un episodio ragazzi veramente bomba Speriamo davvero un episodio bomba perché sarà incentrato su quella che sarà la missione di Sasha e Rosita per uccidere Negan Quindi veramente interessante Ovviamente ragazzi in questo video troverete la mia predizione, quindi le mie considerazioni personali su quello che secondo me succederà nell'episodio 14 Che dire, iniziamo subito Ovviamente ragazzi in descrizione troverete il link della promo se non avete ancora visto che ho caricato io personalmente sul mio secondo canale Troverete il link nella descrizione, quindi mi raccomando guardate se non avete ancora visto E volevo dirvi un'altra cosa ragazzi, qui giù nei commenti fatemi le domande inerenti al question and answer Però inerenti solamente all'episodio di lunedì prossimo, quindi in questo episodio qua, l'episodio 14 di Other Side Quindi qualche domanda che avete intenzione di farmi per il question and answer Dedicato però principalmente, anzi solamente, su quello che sarà l'episodio 14 Quindi fatemi domande esclusivamente su quello che sarà l'episodio che andrà in onda lunedì prossimo Prima di iniziare con la predizione, volevo un attimo fare un passo indietro Su quello che è sostanzialmente stato l'episodio di ieri Cioè per chi sta guardando questo video martedì, però diciamo l'episodio di lunedì Lunedì, che è stato quello Bury Me Here, quindi seppellitemi qui È stato un episodio che sinceramente io devo dire che è stato uno dei migliori episodi di sempre Nel senso io sinceramente l'ho visto come il best episode dopo l'episodio che ormai conoscete tutti E secondo me è stato uno dei migliori, quello, il primo, io ti ucciderò The day will come when you won't be, il titolo in inglese, americano È stato un episodio veramente bello, quello di ieri, quello di lunedì Infatti era dedicato principalmente a Carol e Morgan Sinceramente ho avuto i brividi a guardarlo Cioè nel senso è un episodio che solamente chi ha visto la terza stagione lo può comprendere Perché comunque è stato il cambiamento di Morgan verso la filosofia di uccidere Come aveva prima che conoscesse Eastman Che Eastman l'abbiamo scoperto nella sesta stagione Quindi veramente un episodio che ha cambiato molto Morgan Perché Morgan in questo episodio è cambiato veramente tanto È ritornato il Morgan di un tempo, nel senso della terza stagione Non abbiamo mai visto quasi mai il Morgan equilibrato Che secondo me c'è stato nella prima stagione quando aveva ancora il figlio Poi dopo la prima stagione, nella terza, l'abbiamo visto totalmente pazzo Infatti l'abbiamo visto con Rick che lo ha scoperto dove stava In un posto veramente assurdo E quel posto lì l'ha ricordato Infatti nei flashback che abbiamo visto nell'episodio di lunedì Praticamente erano i flashback di adesso e prima, adesso e prima Riguardanti tutti i cartelli che lui aveva messo Tipo ascolta e basta Poi aveva scritto pulito Tutte queste cose qua che ovviamente hanno portato a Morgan la pazzia totale E con la morte di Benjamin Perché è stata una morte veramente che ha pesato tanto Sinceramente io non me l'aspettavo che pesasse così Perché era un personaggio secondario Ma l'hanno fatto veramente bene Cioè hanno fatto una morte, gli hanno dato un peso veramente sostanziale per Morgan E' tutto collegato con la morte di Benjamin e Richard Perché comunque è morto pure Richard E' collegato tutto a Carol e a Morgan Quindi si è totalmente cambiato il senso Adesso Carol e Morgan sono anche loro pronti a questa guerra Infatti poi nell'episodio, nell'ultimo diciamo minuti dell'episodio Si vede Carol andare al regno E a dire a Ezekiel Dobbiamo combattere Ezekiel ovviamente dice Sì ovviamente dobbiamo combattere Perché dopo quello che è successo Di certo non possiamo più stare con le mani in mano Quindi finalmente vedremo questa battaglia Il regno ci sta Adesso dobbiamo solo aspettare Rick Che prende le armi da Yashanside Perché lo vedremo nell'episodio 15 Molto probabilmente E poi finalmente vedremo tutti i gruppi pronti Per la guerra Che vedremo Si spera almeno nel sedicesimo episodio Un abbozzo di guerra Speriamo di vederlo Comunque non in caso ragazzi Adesso partiamo subito con quella che è la predizione Quindi secondo me quello che succederà nell'episodio 14 Volevo aprire questa parentesi Perché se la merita una parentesi di questo episodio Cioè nell'episodio di lunedì scorso Nel senso quello che abbiamo visto ieri È stato un episodio bello 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 L'episodio 13 Uno dei migliori episodi di questa stagione Fatemelo sapere voi con un commento Se date ragione a me Oppure semplicemente esprimete la vostra opinione Di quello che è stato l'episodio 13 Che dire Possiamo iniziare subito con la predizione Ovviamente farò riferimento alla promo Quindi forse vedrete qualche immagine Di quella che è la promo Dell'episodio 14 Questo episodio ovviamente come ripeto È incentrato su Rosita e Sasha Per la missione contro Negan Quindi il loro obiettivo È uccidere Negan e basta Nel senso quello è il loro obiettivo Non le hanno altri Sono pronti a farlo Ovviamente nella promo si vede Praticamente Sasha e Rosita Che si stanno preparando Soprattutto ci sta la discussione Tra Jesus e Sasha E Sasha dice a Jesus Io non cambierò idea Voglio andare fino in fondo E ci andrò Quindi secondo me insomma Questa cosa ci fa capire Che Jesus sta cercando In qualche modo Di dire Appunto a Sasha Di non farlo Perché altrimenti morirà Ma lei non credo Voglia tanto vivere Perché comunque ha detto Che lo sanno benissimo Che è una missione suicida Che potrebbero sopravvivere o meno Quindi il loro obiettivo È quello di uccidere Negan E ovviamente rischiare anche la vita Questa era sottintesa Era incluso diciamo E poi Oltre a questo coso qua Che secondo me Poi ci ritorneremo dopo A quello che secondo me Succederà su questa missione Abbiamo dall'altra parte Hiltop Finalmente riguardiamo Un'altra volta Hiltop Quindi c'è di nuovo Daryl Perché Daryl come sapete È tornato a Hiltop Dopo aver passato dal regno A Hiltop Infatti adesso Un momento a Hiltop Lo rivedremo Con Purtroppo I salvatori In arrivo Infatti Daryl In questo episodio Si dovrà nascondere Perché se lo beccano I salvatori Lo riprenderanno E lo faranno riascoltare La canzoncina di Easy Street a Daryl Quindi Daryl Per scappare Da questa Da questa agonia Ovviamente deve scappare Deve rifugiarsi All'interno di Hiltop Sperando che Non lo becchi nessuno Però ho la vaga idea In questa sensazione Che Gregory In questo caso In questo episodio Ci rimarrà ovviamente Secondo me secco Nel senso che Secondo me lo uccideranno Gregory Però perché comunque Il suo personaggio Deve morire In quanto Ce l'ha scritto in testa Praticamente Morirò tra pochi episodi Quindi Sinceramente non vedo l'ora Di guardarlo Una morte di Di Gregory Perché non ce la faccio più Come personaggio Speriamo anche Una morte di Simon Magari in questo episodio no Però magari nei prossimi Perché secondo me Comunque Gregory Tradirà il gruppo Di Rick E sostanzialmente Gli dirà tutto Della guerra Quindi secondo me Adesso i salvatori Sapranno della guerra Credo Ho questa vaga idea Che possa succedere Questa cosa qua E secondo me Tradiranno Anche Daryl Nel senso che Comunque Gli diranno Che sono qui Cioè nel senso Che Daryl è qui Lo cercheranno Magari partirà Una sorta di battaglia Speriamo una cosa del genere Perché Daryl Sinceramente Non credo Si faccia catturare Così facilmente Quindi se davvero Gregory Dovesse In qualche modo Tradire Daryl Credo che a questo punto Ci potrebbe essere Una sorta di battaglia E ci spero Perché così almeno Vedremo finalmente Un bozzo di guerra Se si può dire così Di scontro Diretto Fra Hiltop E ovviamente I salvatori Quindi ci spero Sotto un certo punto di vista Ma non credo Perché comunque Credo che Quella prima battaglia Verre e propria Che abbiamo contro i salvatori L'avremo sicuramente Nell'episodio 16 Quindi Un primo scontro Sicuramente Nell'episodio 16 Ci starà tutto Io spero veramente Tanto di si Perché comunque Punto davvero tanto Su quell'episodio Poi un'altra cosa Che succederà Secondo me In questo episodio Dalla parte di Hiltop E molto probabilmente Potrebbe essere Anche La morte di Jesus Potrebbe essere Nel senso che È un personaggio Che comunque Lo stanno trascurando Un po' Non vorrei che Significasse Che è arrivata Diciamo la sua morte Se si può dire così Spero veramente di no Perché è un personaggio Che secondo me È un personaggio Che deve dare ancora molto Anche se Insomma Non lo so bene Come Descriverlo Come personaggio Spero da una parte Che non muoia Però le probabilità Secondo me Che possa morire In questo episodio Sono abbastanza alte Quindi sicuramente Vedremo abbastanza alte Le probabilità Però potrebbe essere Come potrebbe non essere Poi parlando invece Di la predizione Di quello che succederà Invece dalla parte Di Sasha e Rosita Secondo me In questo episodio Vabbè Oltre Sasha e Rosita Che partono Verso il Centauri Scavalcano la grata Che le porterà fuori Quindi le porterà dentro Il Centauri Secondo me Sasha sparerà A Negan Cioè Forse lo ferirà Io si spero Che possa almeno Ferire Negan Potrebbe uccidere Sicuramente Due o tre salvatori Li uccide per forza Perché sono vicino a Negan Quindi li uccide per forza E potrebbe essere Che magari Magari Forse Sasha riesce a sparare A Negan Ferirlo Si spera Perché se lo manca Pure lì Veramente Tra Rosita E Sasha Non si sa Chi ha la mira Più schifosa Perché veramente Se riprendono Un'altra volta Lucille Io mi incazzo Veramente tanto Perché non è possibile Che la prendano Due volte Lucille Quindi Anche perché Negan Secondo me Si incazzerebbe più Se gli tocchi Lucille Che lui stesso Quindi secondo me Insomma Da una parte È meglio che colpisce Negan Ed infatti Credo che Magari Negan Verrà ferito E magari Si dovrà riprendere Piano piano col tempo Magari faranno Una cosa un po' Diversa Però non credo Perché comunque Io ho questa Vaga sensazione Che mancheranno Negan Oppure magari Lo feriranno Ma non gli faranno nulla Negan Prenderà In ostaggio Rosita Che molto ovviamente La vedrà Quindi la prenderà In ostaggio E costringerà Sasha A farsi vedere Perché molto ovviamente Sasha all'inizio Si nasconderà E ovviamente Le prenderanno Tutte e due In qualche modo Verranno prese In ostaggio Tutte e due E secondo me Una delle due Morirà Quindi in questo episodio Secondo me Vedremo la morte Di una delle due O perlomeno In questo episodio Non vedremo vittime Ma le vedremo Nell'ultimo episodio Quindi Sasha O Rosita Secondo me Moriranno Nell'ultimo episodio Della stagione Quindi sicuramente Dovranno morire Una delle due Oppure tutte e due Non lo so Però mi sembra strano Che tutte e due Che vengano uccise Perché sarebbe troppo scontato Secondo me Comunque niente Ragazzi Questa era grosso modo La predizione Dell'episodio 14 Un episodio Che secondo me Veramente Punto tanto Su questo episodio Speriamo veramente Bene per questo episodio qua Perché sarà un episodio Che secondo me Insomma Ha tanti punti interrogativi Se Negan verrà colpito Se Negan non verrà colpito Cosa succederà Daryl Se ci sono tanti I punti interrogativi Secondo me Sarà un big episode Quindi O episode Sì Episode Sarà un big episode Quindi veramente Punto davvero tanto Fatemi sapere Voi nei commenti Cosa ne pensate Mi raccomando Fatemelo sapere E qui giù nei commenti Spero tranquillamente Questo video vi sia piaciuto In tal caso vi ricordo Di lasciare un mi piace Iscrivetevi al canale Per non perdervi I prossimi contenuti Di The Walking Dead Inoltre passate Nella pagina Facebook Nel profilo Instagram Tutti i link Li trovate nella descrizione E noi ci sentiamo Ad un prossimo video Un saluto Da Fox Hour E The Walking Dead News Spoiler e altro Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Domani Ma io ti ucciderò Ciao a tutti